Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovissimo video qui con me Oggi andremo ad abboxare una maglia molto particolare di questa squadra di calcio E' una squadra di calcio della mia città che è Reggio Calabria Allora Bene, è aperta perché l'hanno dovuta ovviamente personalizzare Maglia Givova originale Eccola qui, la sto per aprire Delicatamente Con tutti gli sponsor E il dietro, quindi il nome che ho messo ovviamente Penso lo sappiate tutti già Penso abbiate già indovinato C'è scritto Air Petal numero 25 Devo dire, maglia molto bella Ci sta, ci sta veramente Eccola qui Tutta la sua bellezza Appena indossata E adesso vi porterò con me a vedere la partita Reggina Genoa all'Oreste Granillo di Reggio Calabria Ciao ragazzi, oggi in Tribuna Est Volevo provare questa nuova esperienza in Tribuna Est Per la prossima volta a Tribuna Grande Questa è la vista spettacolare La curva sud carica per questa partita Ingresso dei giocatori in campo Si parte Attenzione Attenzione Col del Genoa Vai Sì, 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 sì. 5 minuti! La Genova! Inizio! Ballo di mano, rigore palestre! Vai, 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 Ernani! Spaccagli la porta! Vincere, vincere, vincere. Vincere, 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 vincere. Vincere, vincere. Grazie per aver portato fortuna a questa squadra che ha bisogno di molto supporto. Quindi detto questo ragazzi, sempre forza you e forza regina, ovviamente forza Maranto, quindi a Reggio. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram soprattutto, importante. Per chi non conoscesse Giacomo San Vitale, andate anche a dargli un'occhiata, lascio qui il canale per chi volesse dare un'occhiata. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao 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 ciao.